si può scegliere di morire l'interrogativo in queste ore divide l'italia la morte del dj fabo non riesco a prendere una posizione lo dico subito e chiaramente da un lato il valore sacro della vita e dall'altro in conflitto la libertà la dignità di ogni persona di poter scegliere della propria vita una storia tragica un'altra storia in cui mi sono imbattuto in queste ore è quella del piccolo daniel che nulla a che vedere con la prima ma c'è un filo sottile che lega le due la storia di daniel è quella di un bambino di otto anni che due anni fa è venuto meno strappato alla vita prematuramente da una malattia rara ieri i genitori erano al carnevale di castelvetere per vivere insieme alla comunità il carnevale hanno fondato un'associazione che il sorriso di daniel si occupa di dare sostegno a quanti ricercano cure contro le malattie rare che si battono tutti i giorni per garantire un futuro ai bambini due storie diverse del tutto opposte tra loro due storie tragiche la parola chiave che hanno in comune è la speranza da un lato la speranza di poter morire in maniera dignitosa dall'altra la speranza di poter vivere in maniera dignitosa non sono contrapposte ma guardano entrambe al futuro cioè a cercare di interrogarsi su come migliorare il nostro modo di vivere o il nostro modo di morire non dare delle risposte non avere delle risposte è già una sconfitta questo sì lo dico chiaramente sul caso di dj fabbo ora tra la speranza di vivere la speranza di morire c'è una certezza la necessità di parlare sempre di questi temi e non solo non solo in questi in questi momenti e questo è il punto